Atterraggio di emergenza all'aeroporto milanese di Linate per l'Airbus del governo con a bordo il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. L'aereo che da Roma doveva raggiungere Bruxelles, sopra i cieli di Zurigo, ha riportato un problema al parabrezza e l'equipaggio ha preferito far rientro a Milano. Nessuna preoccupazione a bordo, ha fatto sapere il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Paolo Bonaiuti. Berlusconi e suo staff che nelle immagini vediamo al momento della partenza dall'aeroporto di Roma a Ciampino hanno atteso l'arrivo di un aereo sostitutivo che porterà con un paio d'ore di ritardo il premier italiano nella capitale belga per il Consiglio europeo.